Dal 7 al 14 maggio torna la 43esima mostra del libro per ragazzi a Bottega al Palafoglia Sesto on the Day. Laboratori per bambini e ragazzi, mostre, letture ad altavoce ed incontri. Focus speciale su Gianni Rodari, 43esima mostra del libro per ragazzi, dal 7 al 14 maggio a Vallefoglia.